Ben ritrovati amici bianconieri, un saluto dal vostro BJ. Vlovic si vende, ok, ma non si svende, come sembra che sta facendo la Juventus. Andiamo ad approfondire bene quello che sta succedendo nelle ultime 12 ore. Addirittura scambio Vlovic-Lukaku con un conguaglio di soldi. Praticamente il prezzo di Vlovic raggiunge quasi 80 milioni nella vendita. Prima che approfondiamo, quello che succede, se c'è verità o meno, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video. E siamo sempre live, lei si dimentica in mente, madame e me, se signore e signore e me, signore e quelle vere, quelle gobi bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. L'Atalanta vende Holland, Holland, Helland, come caspita si chiama, 80 milioni di euro. Un giocatore che ne vale neanche la metà. Un giocatore che ha segnato 2-3 gol in Serie A. Un giocatore che non sappiamo neanche se esploderà o meno, zero esperienza. E la Juve vende Vlaovic quasi allo stesso prezzo, se non di meno. Io dico, se tutto questo che sta succedendo è giusto o sia sbagliato, io dal mio punto di vista, ignorantemente parlando, per me non ha alcun senso vendere Vlaovic 80 milioni. Perché si sta parlando? Vlaovic va al Chelsea, Lukaku alla Juve e il Chelsea ci dà un gonguaglio di 40-50 milioni. Il valore di Lukaku sarà di 30 milioni, 50 e 30, 80 milioni. Oggi io vendo Vlaovic solo se mi date 120 milioni. Lo volete? 120 milioni! Per quale motivo? Ogni volta che deve vendere la Juventus, dobbiamo mantenere i prezzi bassi. L'Atalanta vende Holland, con un prezzo alto che non ha alcun senso. Poi mi viene sempre da pensare, ma la procura, le procure, in questo caso dove sono? Chi controlla la cessione di questo giocatore dell'Atalanta che vale per tre volte, per tre volte del valore di mercato? Che poi parliamoci chiaro. Il giocatore dell'Atalanta vale 15-20 milioni, venduto 80 milioni. Qui rientra pure il mio pensiero delle procure, che a volte fanno lavoro allora a senso unico, colpendo solo la Juventus. Invece la Juve, mi sento dire giustamente da Giuntoli, se arrivasse un'offerta rinunciabile, Vlaovic ci viene venduto. Ma non penso che 80 milioni di euro sia un'offerta rinunciabile. Io non voglio dire se è più forte Vlaovic, se è più forte Lukaku. A me questo punto di vista non me ne frega. Mi fido del lavoro che vuole fare la Juve, voglio fidarmi di quello che vuole fare Allegri, ma svendere Vlaovic a questo prezzo non sta bene assolutamente. Questo non è lavorare nello giusto modo. Questo non è lavorare bene per la Juventus, perché questo qua vuol dire buttare soldi e perdere un giocatore di 23 anni venduto quasi 70-80 milioni. E non mi va giù, se vedo giocatori metà del valore, metà dell'esperienza, anche metà dell'esperienza, venduti il doppio, il triplo, il quadruplo del valore. Perciò, come dire, chiudiamo qui questo video. Non voglio prolungare perché voglio vedere quello che succede durante la giornata, vi aggiornerò sicuramente, ma io vi dico la mia. Oggi la Juventus si sta svendendo Vlaovic. Se i prezzi e le notizie che sono uscite sono veritiere, Lukaku alla Juve, Vlaovic al Chelsea con un buon guaglio di 50 milioni. Valore di cessione di Vlaovic 80 milioni. Troppo basso, visto che l'Atalanta ha venduto il suo gioiellino 80 milioni di euro in giocatore che ne vale a malattena 10. Mando un saluto alle procure che controllano bene quello che sta succedendo e mando un saluto a Giundoli che gli dico, carissimo Giundoli, mi raccomando, non svendiamo, ma vendiamo. Questa qua, secondo me, non è un'offerta irrinunciabile. Questa è un'elemosina del Chelsea. Fino alla fine, forza Juventus, ieri, mi ne vaio. Ossa benedica a tutti i picciotti. Ciao!